Salve a tutti, sono Sara. Oggi insieme vedremo un esercizio combinato di respirazione, voce e articolazione dei suoni. Il collo e le spalle devono essere rilassate. Prendiamo l'aria dal naso, teniamo le labbra chiuse e iperarticoliamo i tre suoni del linguaggio, A, O, U, in questo modo, A, O, U. Ricapitolando quanto abbiamo visto, è bene che il collo e le spalle siano rilassate. Prendere l'aria dal naso e poi ispirarla iperarticolando i tre suoni del linguaggio, A, O, U. Disegniamoli, così per il bambino sarà più semplice. Prima, aprirà bene la bocca per dire A, poi prenderà nuovamente l'aria dal naso e pronuncerà O. E per finire, sempre dopo aver preso l'aria dal naso, stringerà le labbra per dire U. Con queste faccine ci si può divertire a combinare tra loro i suoni, A, O, U, oppure U, O, A. Sperimentate un po'. Spero che questo breve contenuto possa esservi di aiuto e vi ricordo che il Lido resta sempre con voi. Ciao!